e ciao a tutti qui da abel fc visto che c'è la pausa per i mondiali andiamo a vedere cosa è successo fino adesso nella lega fantacalcio fanta youtubers nell'ultima giornata di campionato ho perso contro carmin special vi ricordo che questa lega adesso vediamo la classifica è una lega tra i migliori youtubers d'italia infatti sono onorato e molto felice di partecipare per il come vedete qui abbiamo la crema della crema per il fantacalcio in italia infatti il primo in classifica è chiuso chiamato qui nella lega piero pelu con 23 punti poi abbiamo pro fantacalcio di vilino fc carmin special molto conosciuto lo conoscete penso tutti il fantavirus quarto posto con 14 punti fanta cantarini il profetta con 14 punti lo stesso poi ci siamo noi abel fc con 13 punti recosta con 10 lo storio germanus con otto e team fantagol con cinque punti andiamo a vedere insieme che nelle prime giornate di campionato stava andando bene perché nella prima avevo battuto carmin special che appunto adesso perso ma nella prima avevo battuto poi avevo pareggiato con quello che è adesso il primo e poi vabbè ho perso qualche partita ma diciamo che ho iniziato poi a vincere come ho fatto a gol pareggiando con lo storo vincendo contro recosta insomma stava andando bene ma nelle ultime giornate diciamo che ho avuto un po di problemi perché ho perso anche il bello e grande e fortissimo c'è la pubblicità scusate e fortissimo immobile che purtroppo non mi ha non mi ha più giocato perché è infortunato e ho perso insomma un po di giocatori però ho un lookman che mi sta sorprendendo sta facendo bene o comunque giocatori abbastanza interessanti ma è chiaro che la mia rosa non è la rosa più forte del campionato diciamo che essere al settimo posto è più o meno meritato mi aspetterei di essere al quinto quarto posto ma come vedete la classifica è molto molto corta perché ho 13 punti sono al settimo posto e qui fantavirus per esempio che è al quarto posto ne ha 14 di punti quindi ci siamo ho fatto fino adesso 718 punti quindi ci può stare la mia classifica non sono contento volevo qualcosa in più però non mi posso neanche lamentare e visto che adesso abbiamo la fase mondiale visto che abbiamo ancora un sacco di tempo un sacco di partite da giocare diciamo che posso recuperare posso fare molto molto meglio di quello che ho fatto fino adesso mi raccomando scrivete qui sotto cosa ne pensate della mia squadra e soprattutto di questa lega fantastica e ci vediamo al prossimo video qui da abel afc ciao ciao